Mestre, prima partita vera, buone indicazioni? Sì, è stato un buon test, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo tentato di fare le cose che proviamo durante gli allenamenti, le gambe non girano ancora al meglio, però sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Poi oggi eravamo anche rimaneggiati in difesa, ma direi che la linea difensiva si è comportata bene anche in emergenza contro un attacco forte come quello del Livorno. Anche in avanti abbiamo fatto dei buoni movimenti, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, l'ultima conclusione. Ho visto che tutti i reparti non l'hanno delusi, sono stati belli corti, belli attenti. Esatto, ha giocato corti, ha tenuto le distanze giuste, quello che avevo chiesto prima di questa partita, di essere ordinati, di curare molto le distanze e i movimenti sia in fase difensiva che in quella offensiva.